Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti e buon 2024, che sia un anno felice di gioia e di serenità per tutti quanti. Come sempre vi è stato all'ultimo giorno dell'anno il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la carica più alta dello Stato italiano, il quale ha sviluppato un discorso che, sit veni a verbo, definirei da pappa del cuore per anime belle, utilizzando categorie della fenomenologia dello spirito di Hegel. Il discorso di Mattarella, con il massimo rispetto dovuto al Presidente della Repubblica, era un discorso all'insegna del batticuore per l'umanità, come diceva Hegel per criticare ironicamente le anime belle del dover essere e della semplice forma dell'intelletto astratto. Insomma, il discorso di Mattarella è stato tutto un susseguirsi di grandi proclami condivisibili, naturalmente, nella forma vaga e astratta, in difesa delle ragioni della pace, in difesa dell'amore altruistico, tutte cose condivisibilissime che però hanno eluso, mi pare, di poter dire i problemi fondamentali che si sarebbero dovuti affrontare o che ci saremmo aspettati venissero affrontati dal Presidente della Repubblica. L'unico passaggio più concreto è stato quando ha criticato giustamente il terrorismo spietato di Hamas, senza però condannare ugualmente, e ce ne siamo stupiti, il terrorismo che Israele ha dispiegato in risposta al terrorismo di Hamas. Ma anche questo fa parte della narrativa dominante a cui evidentemente anche il Presidente della Repubblica è particolarmente sensibile. Insomma, un discorso all'insegna del batticuore per l'umanità, dove si è detto che l'amore vero è donativo e altruistico, tutte cose condivisibili, anche perché se non fosse altruistico non sarebbe neppure amore, ma sarebbe calcolo, interesse, godimento individuale. La ricerca della pace, ovviamente, siamo d'accordo con lui, è un obiettivo fondamentale. Non si fa tuttavia mandando le armi in Ucraina, mi permetto di aggiungere tra le righe. Insomma, un discorso general generico da batticuore per l'umanità e direi anche alquanto deludente nella sua formulazione molto astratta e general generica.